Festa, quindi davvero grazie a tutti quanti. Io mi auguro che la festa sia piena per tutti. Oggi c'è la Vitaliano Lenguazza, uno dei cardini della cultura padovano, oggi pomeriggio alle 4. Quindi venite a ascoltare la Vitaliano perché è musica di qualità. Quindi grazie a tutti e ti lascio la parola. Buongiorno, grazie a tutti e a tutte per essere qui oggi. E ovviamente non posso confermare le parole di Cisindaco. Questa per noi è una festa, è la prima di 5 feste, quindi 5 domeniche sostenibili. Buongiorno, grazie a tutti. Grazie.